Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corne belle. Eccoci qua, oggi è un video differente. Oggi non vi parlerò di una recensione a tutto tondo di quest'opera, per il semplice motivo che è un'opera di cui è uscito il volume 1 e non mi sembra propriamente il caso di metterci qua e andare a sviscerare la rave e la fava, per il semplice motivo che è un'opera di cui è uscito il volume 1 in Italia e in Giappone sono usciti 4 volumi e credo 17 o 18 capitoli, quindi una roba tipo un anno e mezzo di pubblicazione. Capite bene anche voi che non ha senso metterci lì ad approfondire tematiche, stili e cose così per un'opera che non è neanche entrata in quello che è il suo momento clou. Cioè appena iniziate siamo proprio alle fasi introduttive, quindi oggi parlerò di sensazioni, di quello che è un po' la mia impressione dopo aver letto il primo volume. Di che cosa vi sto parlando? Parlo di Yomi Nutsugai, di Hiromu Rakawa. Intanto la Rakawa è sempre una sicurezza, tanto mi è caduta la bandella che è qua. La Rakawa è sempre una sicurezza. Full Metal Alchemist, che non è la sua prima opera, ma è stata la sua prima opera di successo, ci insegna che la Rakawa può anche partire in sordina, può creare anche un'opera che all'inizio non vi fa capire dove vuole andare a parare, ma quando prende il là, ragazzi, non ce n'è per nessuno. È una grandissima, grandissima autrice. Partiamo da una cosa, partiamo dal titolo. Yomi Nutsugai. Io non vorrei dirlo perché poi dopo io sembro spocchioso, però mi dà proprio l'impressione di essere una mancanza proprio di voglia di tradurre. Il traduttore è Luigi Boccasile di New Type KK. Allora, abbiamo già visto in passato opere dell'Arakawa con un titolo giapponese che è stato tradotto in italiano. O meglio, è stato tradotto in inglese. Perché non si poteva fare la stessa cosa anche per Yomi Nutsugai? Perché io questa cosa non la capisco. Cioè, Full Metal Alchemist, che è diventato un titolo della Madonna. Il titolo giapponese è Hagane Norenkinjutsushi, cioè l'alchimista di ferro. D'altra parte, Silver Spoon, altra grande opera dell'autrice, il titolo originale è Ginnosagi, il cucchiaio d'argento. Perché non fare un titolo inglese o italiano per Yomi Nutsugai? Anche perché Tsugai non si poteva tenere originale. Perché vengono chiamati proprio Tsugai all'interno del fumetto. Gli Tsugai sono coppie, ma qua viene proprio spiegato che in questa opera gli Tsugai sono coppie di figure mitologiche. sono animali, yokai, divinità. Quindi sono esseri paranormali. Bene. Quindi li puoi chiamare Tsugai, vengono chiamati Tsugai all'interno del fumetto. Yomi, che di solito è oscurità, ma è un kanji diverso, Yomi qua è proprio il mondo dell'Ade, il mondo della morte. Quindi sono gli Tsugai del regno della morte, del mondo degli inferi. Si poteva lavorare con un titolo allusivo che richiamasse Yomi Nutsugai, se uno non è avezza al giapponese, è anche un titolo che ti rimbalza, Yomi Nutsugai. Vabbè, scelta loro. Però mi dà l'impressione proprio di poca cura. Cura invece che è stata utilizzata, secondo me, nel fare uscire tre variant, e sapete che mi viene l'orticaria quando parlo di variant, perché purtroppo è diventato una bolla che in alcuni casi tiene in piedi il mercato, in altri casi, secondo me è una bolla che gonfia il mercato. Infatti Yomi Nutsugai ha avuto questo volume qua, che è quello uscito la scorsa settimana, che è la Normal Edition. Poi sempre con questo volume è uscita una variant bundle, dove c'era un'altra cover variant di Yomi Nutsugai con i due personaggi principali, quindi Yuru e Asa in copertina, insieme a un volume 1 variant di Fullmetal Alchemist. Vabbè, ok. Sappiamo che è dell'autrice di Fullmetal Alchemist, quindi utilizziamolo. E poi, qua Panini ha praticamente utilizzato quello che è l'Early Access, l'Early Bird, nei Kickstarter, nelle vendite dei biglietti, come capita per esempio a Lucca, o nei videogame. Come sapete bene, io sto facendo adesso l'Early Access di Baldur's Gate, che è uscito tre anni fa, e il gioco esce stasettimana. Quindi, è proprio un modo di cercare di rivendere la stessa opera con una variant metallizzata a 7 euro invece che a 5,20. Vabbè, c'è qualcuno che li ha comprati, bravo. Io ho aspettato la serie originale. La serie normale me la sono comprata, però c'è qualcuno a cui può piacere. Andiamo un attimo a leggere quello che è l'Assidossi dell'opera. In un villaggio sperduto tra i boschi, dove il tempo sembra essersi fermato e la vita scorre tranquilla, un grande oscuro segreto coinvolge due abitanti, i fratelli Yuru e Asa, e trasformerà un oasi di pace in un terribile campo di battaglia. La nuova serie della geniale creatrice di Fullmetal Alchemist. Devo dire che in questo primo volume ci sono proprio queste due figure, che sono due fratelli, Yuru e Asa, che sono due gemelli nati in due momenti diversi della giornata, uno durante la notte e l'altra appena dopo l'alba. E sono due figure assolutamente opposte e complementari. Uno è rabbioso, scontroso, con un cuore enorme, ma con una durezza legata proprio a quello che sono stati gli eventi della sua vita. Ed è Yuru. Dall'altra parte c'è Asa, una figura che esteticamente è oscura, con questi capelli corvini, la benda su un occhio e i suoi strani poteri extrasensoriali, ma che nasconde quello che sono le proprie fragilità in un lato estetico molto duro, molto scostante. Ecco, già da qua due figure assolutamente interessanti, molto carine da leggere, e che vi accompagneranno e vi faranno venire voglia di continuare a leggere la storia. Come questo, tutti gli altri comprimari, sia i due tsugai principali, cioè Sayu, cioè destra e sinistra, che sono questi due esseri che vediamo in copertina, uno e due, destra e sinistra, più tutti gli altri comprimari che ci racconteranno quella che è la storia di questo villaggio nascosto tra le montagne, nascosto all'interno di una barriera misteriosa che permette al villaggio di rimanere sganciato dal mondo esterno, per non si sa quale motivo. E tutto il resto. Devo dire che come volume è abbastanza rapido, è rapido da leggere, si beve in un attimo, nonostante, nonostante ci siano una quantità di dialoghi, come sempre, esagerata, ma oramai è la deriva degli ultimi anni, e quindi il fumetto shonen deve avere una quantità di testo in vereconda. Però la cosa interessante di questo fumetto è che mixa insieme quello che è lo stile dell'arkawa, mixa insieme quello che è il classico umorismo anche gretto in alcuni momenti dell'arkawa con situazioni dove i personaggi sono deformati proprio nei loro momenti gag a situazioni horror che richiamano un po' quello che è lo stile di uscire tora come opera e di altri fumetti horror con situazioni dove gli yokai sono figure bianche con bocca e occhi vacui che ti guardano in un misto tra terrore e follia ecco quest'opera lavorando sul mondo dei fantasmi e dei mostri gioca tanto e gioca forte proprio su questo stile cioè sull'horror e devo dire che è molto piacevole da vedere perché è un horror in stile arakawa quindi non è un horror pesante prepotente è un horror leggero che arriva sfumato per poi colpirti e tornare nello stile normale io devo dire che questo primo volume me lo sono goduto me lo sono letto mi ha divertito tanto e non vedo l'ora proprio di leggere i prossimi volumi ditemi voi cosa ne pensate se siete tra quelli che si sono fatti spennare con le variant tipo da 15 euro da 7 euro se vi è piaciuto o anche se non vi è piaciuto voglio sapere da voi cosa ne pensate se lo comprerete se lo continuerete quindi scrivete qua sotto nei commenti se vi è piaciuto e noi andiamo avanti per i prossimi video e le prossime live ciao belli alla prossima ecco la rakawa si sente tutta ma si sente tutta bello stile rapido divertente belli personaggi raccontati bene con una base un fondo di mistero di magia di esoterismo che meritano di essere approfonditi la rakawa è una maestra in questo grazie a tutti grazie a tutti Grazie.